Nel giorno di Santa Rita viene restituito alla città uno spazio verde situato nel cuore del centro storico, fino ad ora sigillato fra le mura dei palazzi di via 11 Febbraio e via Bonomelli. È il progetto Oltre il Giardino, promosso da Fondazione Città di Cremona, Consorzio Solco Cremona e azienda speciale comunale Cremona Solidale. Tre realtà impegnate nel sociale che hanno deciso di favorire la relazione fra le persone, unendo i loro spazi esterni attraverso l'abbattimento di un muro, fisico ma pure metaforico. Anche i cittadini possono contribuire all'abbellimento e manutenzione del parco, con una donazione che va dai 9 euro corrispondenti ad un bulbo di fiore da piantare al 190 euro e oltre, permettendo di acquistare una panchina o adottare un albero. Lanciamo proprio oggi una raccolta fondi che serve per far diventare questo giardino sempre più vivo e sempre più bello, proprio per essere usufruibile dalla città, dal quartiere in particolare, dai bambini e dalle persone anziane, perché in questi poli in cui ci sono persone fragili, persone anziane e ragazzi con difficoltà, deve essere un'incubatrice di buone pratiche per avere un ampio livello di socialità e di socializzazione. È questo che noi vogliamo fare. L'apertura del muro e quindi la simbologia dell'abbattimento del muro significa anche abbattere le barriere tra le persone. Mentre ai civici 7981 di via Bonemelli, a sede del Consorzio Solco, che aggrega 14 cooperative sociali, al civico 60 di via 11 Febbraio è attivo il centro di urno integrato Barbieri, che fornisce agli ospiti un'assistenza quotidiana con attività quali fisioterapia e laboratori. A Casa Barbieri saranno presto disponibili 10 nuovi alloggi e il giardino, seppur fruibile dall'intera cittadinanza, sarà senz'altro per gli anziani residenti uno spazio ricreativo importante.